L'assessore Luca Bianchi presenta le sue dimissioni irrevocabili. Adesso la delega all'economia è nelle mani del presidente della regione Rosario Crocetta. Abbiamo portato avanti un percorso importante. La mia impressione è che in quest'ultima fase si era rallentato nell'azione fatta, c'è bisogno di una nuova scossa. Io non vado via contro nessuno, vado via rivendicando il lavoro fatto. Peraltro ho interpretato questa funzione come un servizio che ha bisogno di conseguire risultati. Nel momento in cui vedo che ci allentiamo sulla capacità di conseguire risultati ritengo che forse qualcun altro può farlo meglio di me. Solo due assessori lo hanno accompagnato in sala stampa. Al suo fianco lo staff di tecnici che fino ad oggi lo ha affiancato. La vicinanza del suo partito, il PD, c'è sempre stata, spiega Bianchi, ma ad intermittenza. E qualche errore il PD lo ha commesso, l'ultimo sul DDL per il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione. Soprattutto nell'ultimo periodo, credo che no, fino ad ora, appunto distinguendo tra gruppo e l'Assemblea regionale che ha sempre lavorato insieme al governo, è una situazione di fibrillazione politica che ha riguardato tutti i gruppi di maggioranza che certamente non ha aiutato. È stato un tema che ha appassionato per molti mesi, ha impegnato per molti mesi buona parte la classe politica regionale portandola a trascurare quali erano i veri e reali problemi della regione. Il pagamento dei debiti, che purtroppo va fatto comunque, non è che è una scelta che possibili, è come finanziarlo. Vogliamo continuare a pagare interessi di mora all'8%, avere dei crediti ingiuntivi? Possiamo continuare a pagarlo con un interesse al 2-8%. Il presidente Crocetta si dice solidale nei confronti di Bianchi, che ha subito, dice, degli attacchi inaccettabili. Un fuoco di sbarramento, afferma, dietro il quale si sono nascosti i gruppi di potere di sempre. Ciascuno si faccia un esame di coscienza e si chieda fino a che punto ha tentato di ostacolare un processo di rinnovamento irrinunciabile. Ciascuno si faccia un esame di coscienza e si chieda fino a che punto ha sentito. Grazie a tutti.